Musica Buonasera, buonasera cari telespettatori di Caffè TV24 Un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, ben trovati Un'altra settimana iniziata, oggi mercoledì, vi accontento perché parleremo di allergie e di intolleranze Con me ho una professoressa molto importante, è al top, ma adesso vi dico anche il motivo È con me la professoressa Antonella Muraro, professoressa buonasera Buonasera, buonasera, grazie per l'invito Grazie a lei, è responsabile della unità operativa allergie alimentari Centro di specializzazione regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari Nell'azienda ospedaliera Ed è stata per il quarto anno consecutivo al top della ricerca mondiale È stata inserita in questa classifica che è stilata annualmente da una società Che studia attraverso esperti di bibliometrica i ricercatori più influenti Ovvero il ristrettissimo gruppo che è stato citato più frequentemente dai loro colleghi nell'ultimo decennio Complimenti professoressa, sempre al top No, guardi, uno fa il suo lavoro poi scopre che insomma ci sono anche delle gratificazioni E onestamente meglio che vengano piuttosto che essere insomma sempre in trincea Quindi mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere soprattutto perché la citazione di per sé Significa che questo lavoro è stato utilizzato per migliorare il trattamento, la gestione dei pazienti E quindi uno si convince che magari nella tanta difficoltà quotidiana qualcosa di buono riesce a farlo Ecco, lei è stata anche fondatrice e direttrice di questo centro regionale L'ha portato insomma a livello anche internazionale Cioè è veramente un centro di eccellenza Un fiore all'occhiello possiamo dire Sì, io devo ringraziare anche l'associazione dei pazienti Perché nel lontano 2004 Un gruppo di genitori e anche di pazienti adulti Ha accolto l'idea di fondare un centro dedicato al studio, alla cura dell'allergia e delle intolleranze alimentari Perché provenivano da un percorso estremamente accidentato nella diagnosi E anche nella gestione dei loro figli o di se stessi E quindi abbiamo insieme cercato di coagulare i rappresentanti politici Nel Consiglio regionale Veneto E a quel tempo è stata approvata una legge Bipartisan, perché tutti i partiti l'hanno sottoscritta Che ha fondato il centro E sono molto orgogliosa di questo Perché per la prima volta un'associazione di pazienti insieme ai medici Hanno lavorato insieme Sono riuscite a dare forma ad un'opportunità per i pazienti Di tipo multidisciplinare e multiprofessionale Che cosa significa tradotto? Tradotto significa che queste patologie hanno sintomi che sono sia cutanei Sia gastroenterologici, sia respiratori E quindi il paziente va ad interpellare diversi specialisti Che non sono coordinati tra loro In aggiunta le diete vengono utilizzate come diete per la diagnosi Diete per la terapia E non hanno supervisione da parte di personale dedicato competente E quindi delle dietiste formate sul settore dell'allergia alimentare Ancora perché questi pazienti soffrono moltissimo della esclusione del cibo Noi pensiamo che col cibo festeggiamo Col cibo piangiamo Col cibo celebriamo tutti gli avvenimenti importanti della nostra vita E questi pazienti sono escluse con pesanti penalizzazioni Nelle dinamiche relazionali Quindi abbiamo formato una psicologa dedicata Che da circa 15 anni lavora con noi Ed è dedicata esclusivamente a questo settore Quindi c'è stata tutta una collaborazione di professionisti medici E di professionisti non medici Che allo stesso livello, con lo stesso valore professionale Stanno intorno al paziente Quindi non è il paziente che deve consultare diverse persone Ma sono diverse persone che si coordinano Per fornire un unico approccio diagnostico e terapeutico al paziente E devo dire che questo tipo di approccio Che adesso è estremamente innovativo Ed è a livello internazionale un modello Viene adottato anche in moltissimi paesi Sia negli Stati Uniti sia in Europa E devo dire rivendico una certa originalità Quando l'abbiamo fondato noi Quindi ringrazio ancora qui L'associazione Food Allergy Italia Con la Presidente, l'Avvocato Massia Podestà Perché tutti loro ci sono stati accanto Ci sono tuttora accanto In questo difficile percorso Perché una volta fondato Non è stato semplice far capire La originalità, la diversità E la necessità di personale formato La nostra dietista, devo dire È l'unica in Italia con questo profilo Gli altri centri usano dietiste Che utilizzano competenze dietistiche Di dietiste che girano attraverso i vari departi La nostra ha una competenza specifica In 15 anni di lavoro con noi Ed è attualmente insostituibile Spero che nel nuovo corso di nutrizione Che la scuola di specializzazione Di scienze dell'alimentazione ha implementato Verranno altre dietiste con queste competenze Per aiutare i nostri pazienti Che diventano sempre di più Le risorse nell'ambito sanitario Tendono a diminuire Il vostro centro ha necessità Guardi, in corrispondenza all'aumento Pressantissimo della richiesta di prestazioni Diagnostiche e anche di presa in carico del paziente Perché questo che facciamo Una presa in carico del paziente Perché il paziente viene seguito Al di fuori dell'ospedale Facciamo corsi per le scuole Facciamo corsi ai pediatri Facciamo corsi ai farmacisti Con uno sforzo di volontariato Che è proprio volontariato Perché non viene riconosciuto A livello istituzionale E quindi fa parte di quelle che sono Come dire Il fatto di voler fare bene un lavoro E quindi offriamo questa opportunità Perché il bambino, l'adolescente, il paziente Non vive in ospedale Vive sull'ambiente di lavoro Vive a scuola Va in palestra Fa i corsi di animazione durante l'estate E deve poter farlo serenamente In piena sicurezza Professoressa Intanto devo dare allora i numeri Perché questa sera se avete le domande da porre Per la diretta è 373-770-7379 E poi 342-533-9744 Per mandare i vostri sms Allora leggevo che si stima che uno su quattro Ne sia affetto di queste malattie allergiche E che nel prossimo futuro Uno su due soffrirà di manifestazioni croniche Dovute all'allergia Ma è il cibo dottoressa Da dove è lo stile di vita Perché aumentano queste allergie Che cosa ci deve mettere il sospetto Dove dobbiamo stare attenti Anche le mamme che questa sera mi ha detto Nicoletta Devi parlare di allergie e intolleranze Perché i nostri figli Sono sempre più intolleranti Sempre più allergici a tutto Come mai? Più tempo passa Più gli allergici aumentano Professoressa Guardi anche questa è una patologia Che fa parte dell'industrializzazione Perché noi abbiamo visto Che anche gli immigrati Che vengono in Italia E si adattano al nostro stile di vita Sviluppano allergie Quindi non c'è un singolo fattore scatenante C'è una concomitanza di più fattori Dovuto al fatto che dormiamo su materassi I materassi hanno l'accaro Viviamo in case ben sigillate Per un ottimo riscaldamento Una valutazione termica E una efficienza energetica Che però penalizzano la ventilazione E quindi lo scambio all'interno della casa E la riduzione dell'esposizione Parlando sempre degli allergeni Si chiamano indorcio Quelli all'interno della casa Principalmente gli acari Ma poi anche l'inquinamento Ha facilitato il cambiamento Di alcune specie Nell'avere pollini Che possono Le cui dimensioni penetrano Attraverso le vie respiratorie E ancora Il cambiamento climatico Fa sì che Le stagioni di fioritura Per esempio Per i pollini di alberi Di graminacee Siano completamente Sovvertite Per cui L'allergico Che pensava di stare bene In un determinato periodo Fallisce questa previsione Semplicemente perché C'è caldo E la fioritura è prima Perché i bambini Sono più colpiti Perché i bambini Hanno un sistema immunitario Ancora in fase Di completa definizione E al di là del fatto Di avere una ereditarietà Cioè c'è una familiarità Si dice Per malattie allergiche Che facilita L'insorgenza Di malattie allergiche Anche nel resto della famiglia Ma quelli allergici In precedenza Non erano così tanti Quindi l'aumento Ha riguardato anche Chi allergie Non ne aveva in famiglia E questo proprio Per il cambiamento Di tutti questi stili di vita Un altro aspetto È l'utilizzo Sempre più importante Di cibi Detti processati Altamente processati Cioè sono cibi Altamente industrializzati Che noi Utilidiamo regolarmente Tipo Le merendine La pappa precotta Sono tutti elementi Che in qualche modo Facilitano L'insorgenza Di allergie Non aiutando Il sistema immunitario A riconoscere Correttamente Gli allergeni O introducendo Degli elementi Che facilitano La penetrazione Degli allergeni Attraverso La barriera Gastrointestinale In sintesi Noi non possiamo In questo momento Ridurre Questa improvvisa Esplosione Di allergia Indirizzandoci A contenere Un unico fattore Ma possiamo Tentare Di dare ai nostri figli Cibi semplici Questo per prevenzione Cercare di esporli al sole Per favorire la vitamina D Che ha un effetto Immunomodulante E quindi può ridurre L'insorgenza Anche di queste manifestazioni E in qualche modo Facilitare Nel bambino L'adozione Di un sano Stile di vita Per esempio Fare attività sportiva O non fumare Negli adolescenti Tutte queste Esposizioni In età precoci Della vita Non solo favoriscono L'insorgenza Delle allergie Nella fase Stessa Del paziente Ma La condizionano Nelle generazioni Successive Quindi l'adolescente Che fuma Adesso A 15 anni 17 anni Facilita L'insorgenza Di allergie Nei prossimi Bambini Ecco Dottoressa Mi chiedevano Le mamme Quali sintomi Devono far Alzare Il livello Di attenzione Magari Se il piccolo Ha dei problemi Gastrointestinali Se non sta bene Se ha difficoltà La sua qualità Di vita Che cosa Deve far Sospettare La mamma Allora Per quanto Per quanto riguarda L'allergia Alimentare I sintomi Sono Come dire Un po' Banali Per un bambino Piccolo Mi spiego meglio Il bambino Può presentare Coliche Tutti i bambini Presentano coliche Rigurgiti Tantissimi bambini Presentano rigurgiti Un rallentamento Della crescita Quindi ci sono Degli elementi Che si sovrappongono A quelli di O di altre patologie O sono Noi diciamo Parafisiologiche Cioè molto simili Alla normalità Quello che deve Far sospettare È un'accentuazione Di questi sintomi In termini Estremamente acuti Mi spiego La colica Del bambini Che non passa I tre mesi Che interessa Tutta la giornata Con un bambino Che si inarca E piange continuamente E ha continui Disturbi del sonno Alla fine Prima che i genitori Si rivolgano Allo psichiatra Forse sarebbe meglio Far presente questo Al proprio pediatra E eventualmente Consultare Un allergologo pediatra Ecco poi Mi diceva Sempre Elena Che lei ha notato Che ci sono persone Di bambini Che hanno le allergie Oppure magari Un trentenne Che per la prima volta Magari ha una reazione Al gamberetto Dice E' vera questa cosa Questa situazione Si può svilupparsi Questa situazione Sono in genere Pazienti Che hanno già Un'allergia Per esempio I pazienti allergici Agli acari Della polvere Possono essere All'interno Dell'acaro Sensibili ad una proteina Che si chiama Pentropomiosina Questa proteina È caratteristica Del gamberetto Quindi Non è che il paziente È allergico All'acaro E al gamberetto È allergico A questa proteina Che è condivisa Tra i due Per cui Sul lungo andare Il paziente Allergico All'acaro Può In qualche caso Sviluppare Questo tipo Di allergia Che pare improvvisa Al gamberetto In realtà C'è un modo Di diagnosticare Cioè Non tutti i pazienti Allergici Agli acari Sviluppano questo E non tutti i pazienti Hanno questa predisposizione Si fa un'indagine Diagnostica Che è un prelievo In cui si valutano Le molecole E questo è il grande Progresso Che l'allergologia Nella diagnosi Ha fatto Quello di poter fare Un profilo Allergologico Del paziente Valutando Le singole molecole All'interno Dell'allergene A cui il paziente Può essere allergico Le faccio un esempio In passato Si diceva Io ho reazione Alla mela Mangio la mela cruda Sto malissimo Ma tollero La mela cotta Oppure Sto male alla mela Sto male alla mela Il paziente Non sempre sa riportare Se la mela è cruda La mela è cotta Quando noi facciamo Abbiamo questo sospetto Possiamo fare un'indagine Sempre con un prelievo Di sangue Che valuta All'interno della mela Le varie proteine Quindi se il paziente È allergico All'interno della mela A una proteina Che si chiama Profilina Ha reazione Alla mela cruda Non grave E tollera E tollera la mela cotta Se il paziente È allergico Invece Ad un'altra proteina Che si chiama Lipid transfer protein Che è caratteristica Del sud Europa Questo paziente Rischia di stare Molto male Quando mangia la mela E di avere reazioni Anche molto gravi Cosa cambia Nel paziente Con la profilina Noi possiamo dire Mangia la mela cotta Oppure riduci Ma il disturbo Non richiede Un farmaco salvavita Nel paziente Con le lipid transfer protein Dobbiamo dotare Il paziente Di farmaco salvavita Dare istruzioni Di come fronteggiare Una reazione grave Quindi L'individuazione L'identificazione Di queste molecole E la delineazione Di un profilo Del paziente Quanto più individualizzato Hanno consentito Nell'ultimo decennio Di mirare Quanto più Precisamente Possibile La diagnosi Ma soprattutto La gestione Corretta del paziente Evitando Diagnosi inutili Esclusioni inutili Di alimenti Perché non era necessario O invece Proteggendo il paziente Fornendo indicazioni Su come gestire Una reazione grave Sistemica Ecco poi Mi chiede Paolo Ci sono altre reazioni Ad alimenti Che possono essere Scambiate Per allergie alimentari O intolleranze Ma non lo sono? Sì Ci sono queste reazioni Allora Sono delle reazioni Per esempio Da intossicazione Faccio un esempio Si chiama Sindome Sgombroide Sono dei sintomi Che per assunzione Di pesce avariato Si sviluppano rapidamente Imitano completamente Una reazione allergica Ma in realtà È proprio dovuto A questo tipo Di intossicazione E il paziente Una volta Ristabilito Può continuare a mangiare Classicamente È il tonno Però può continuare A mangiare il pesce Senza nessun problema Un altro esempio È per esempio Alcuni aspetti Farmacologici Di alcune sostanze Perché possono imitare Una reazione allergica E lì è proprio La competenza Dell'allergologo Che aiuta Faccio un esempio Le proteine Del latte Tanti pazienti Dicono Ah io sono allergico Al latte Intollerante Al latte Diciamo Da non esperti Si pensa Che l'intolleranza Sia quando Le prove allergiche Sono negative E l'allergia Sia più grave Quando le prove allergiche Sono positive E questo è un mito Da sfatare Perché l'allergia Ha Delle manifestazioni In cui ci sono Delle prove allergiche Positive Per alimenti Caratteristiche E E quindi È un po' più facile Fare la diagnosi Ma ci sono Delle allergie alimentari In cui Queste prove allergiche Sia sul sangue Sia cutane Sono negative Pur avendo Il paziente Le manifestazioni Allergiche Questi pazienti Sono degli allergici Veri Gli anticorpi Che noi andiamo A cercare Quando facciamo Le valutazioni Con le prove allergiche Sia cutanee Sull'avambraccio Sia sul sangue Si chiamano Anticorpi IgE E sono IgE Cosiddette Specifiche Per la proteina X Piuttosto che Y Quando questi anticorpi Non ci sono Si pensa All'intolleranza L'intolleranza È un'altra patologia E in realtà Se c'è una concordanza Tra i sintomi Del paziente E il barrio Si innesta Un percorso Diagnostico Che porta Ad avere Una diagnosi Di un'allergia alimentare Non IgE Mediata Faccio un esempio Il glutine Allora Adesso è di moda Escludere il glutine Perché il glutine Gonfia Allora Dobbiamo pensare Che il glutine È una colla E questa colla Non esiste in natura Si forma Durante il processo Di digestione Del grano Nella nostra pancia Quindi La pancia Si può gonfiare Perché si innesca Un meccanismo Immunologico Di reazione Al grano Questo meccanismo Immunologico Può dar luogo A una reazione Autoimmune Alla gliadina Che si chiama Celiachia Che persiste Tutta la vita Poi si può avere Una reazione Immunologica Con questi anticorpi IgE Specifici Va bene Per il grano E ce ne sono Di due caratteristiche Che danno Reazioni gravi E si parla Di allergia IgE Mediata Al grano Che in genere È lipid Transfer Protein Omega 5 Gliadina Adesso Siamo in grado Proprio di capire Quali molecole Danno l'allergia La terza forma È quella Chiamata Allergia Non IgE Mediata E questa Si chiama Gluten Hypersensitivity Cioè Una reazione Al grano Senza Gli anticorpi IgE Che è Un'allergia Verra E propria Ma in cui Noi Non Riusciamo A fare Diagnosi Con quello A cui Eravamo Abituati Cioè Con il dosaggio Delle IgE Specifiche Il percorso Diagnostico È diverso E c'è una Quarta forma Che non è Allergia Al grano Quando si va A mangiare In pizzeria O si usano Pasta Pane Panificati Che non Sono lievitati A lungo Con lenta Essicazione Il glutine Finisce Di lievitare Nella nostra Pancia E quindi Abbiamo Delle pance Gonfissime Ma qui Basta Cambiare Pizzeria O cambiare Forno O cambiare Prodotto Perché ci sono I panificati Che non sono Come dire Stati lievitati A sufficienza Per cui Il processo Di lievitazione Finisce All'interno Della nostra Pancia Quindi il compito Della persona Che si trova Di fronte Del medico Che si trova Di fronte Un paziente Che dice Io sono Intollerante Al glutine È quello Di discriminare Tra queste Quattro Possibili opzioni È stata Chiarissima Parlava Dei prodotti Senza In commesso Ci sono Un sacco Di prodotti Senza Olio di palma Senza Glutine Tutti Questi prodotti Che noi Scegliamo Senza In qualche Maniera Ci possono Aiutare Non avere Queste allergie In realtà No Non è che Togliendo qualcosa Eviti di essere Allergica Anzi C'è visto Proprio dagli studi Di prevenzione Che ridurre L'esposizione All'alimento È controproducente E questo è un caso Di salute pubblica In Inghilterra Per molto tempo Per prevenire L'allergie All'arachide Il governo inglese Il ministero della salute Aveva dato indicazioni Di evitare L'uovo Fino a due anni L'arachide Fino a tre anni Hanno avuto Un'esplosione Di casi Di allergie All'arachide Nell'Europa Continentale E da noi Dove Questo tipo di indicazione Non esisteva Ma si seguiva Un processo Di svezzamento Graduale Ma che all'anno Praticamente Consentiva Al bambino E consente Al bambino Di mangiare tutto Noi Questa tipo Di problematica Non la fronteggiamo Quindi Cosa è successo Che si sono fatti Degli studi E si è visto Che i bambini A rischio Devono poter Mangiare L'alimento Ovviamente Se non hanno ancora Sviluppato la malattia Perché se no Hanno rischio Di reazioni Devono poter Essere esposti All'alimento E mangiare L'alimento Per poter Sviluppare La tolleranza All'alimento Stesso Tra l'altro Voi siete stato L'unico centro Che ha testato La terapia vaccinale Per l'arachide Noi siamo Noi siamo L'unico centro Che ha utilizzato Il nuovo prodotto Che è un vaccino Vero e proprio Per l'allergia All'arachide Preciso una cosa Quando noi parliamo Di cosiddetti Vaccini Per l'allergia Non intendiamo I vaccini Tipo Il vaccino Anti-influenzale Il vaccino Anti-covid Ma intendiamo Dei prodotti Che con le loro Caratteristiche Sono in grado Di modulare La risposta immunitaria Aumentando Progressivamente La quantità Che il paziente È in grado Di tollerare Quindi Se il paziente Prima tollerava 300 mg Di arachide Che è una cosa Infinitesimale Alla fine Del processo Di assunzione Di questo Prodotto immunomodulante Che dura Circa un anno E mezzo È in grado Di assumere Dalle 4 Alle 10 Arachidi Voi capite Che gli cambia La vita Perché Mentre prima Il paziente Doveva Viaggiare Col farmaco Salvavita Essere attento Anche alle tracce Dell'alimento Quando può Mangiare Dalle 4 Alle 10 Arachidi Anche se Incontra tracce Dell'alimento Non succede Più niente Quindi Questo farmaco Che adesso È commercializzato Negli Stati Uniti Da 3 anni E in Inghilterra In Germania E anche In Francia Spero Possa arrivare In Italia In centri Specializzati Nel prossimo anno Perché Cambierebbe la vita A questi pazienti Esistono anche Possibilità In questo momento Di Desensibilizzare Questo è il termine Questo è il termine Corretto Pazienti Per il latte L'uovo E il grano Noi lo stiamo facendo Da molti anni E in questo momento Siamo contenti Di dire Che ben 350 400 pazienti Sono stati Desensibilizzati Per latte E uovo Cosa vuol dire Che mangiano Latte E uovo Senza problematiche Ulteriori E il grano E ne abbiamo Altrettanti In In terapia In Protocollo Di Desensibilizzazione Questi protocolli Sono protocolli Da fare Non fai da te In Centri specializzati Sotto controllo Di Allergologi Competenti Perché Che hanno Esperienza In questo tipo Di procedure Perché Non sono Un viaggio Semplice Sono Un viaggio Che richiede Una motivazione Del paziente Che richiede Un Ottimo Rapporto Di fiducia Con il medico Che richiede Di poter Segnalare Le reazioni Sempre Su base Volontaria Il mio Gruppo Le mie Dottoresse Ed io Abbiamo Un servizio Detto Di Supporto Continuativo Nelle 24 ore Che non è Riconosciuto Su base Istituzionale Né tantomeno Remunerato Ma che ci sentiamo Di fare In scienza E coscienza Per supporto Ai nostri Pazienti Che devo dire Non disturbano Per niente C'è molto rispetto Reciproco In questo E chiamano Quando effettivamente Hanno problemi Durante la somministrazione È un processo Che ripeto È di Soddisfazione Reciproca Perché il paziente Arriva a mangiare E quello che prima Non poteva Quello che prima Gli dava Gravi reazioni Ma che non è lasciato All'improvvisazione Né deve esserlo Ecco Professore Se lei Prima ha parlato Parola vaccino Ecco le chiedo Con il covid Le allergie Poi In qualche maniera Sono aumentate Cioè Il fatto Chi si è vaccinato Chi ha preso il covid Ecco I fattori Allergici Ci sono stati di più Si sono scatenate Le intoleranze Cosa è successo? Non si sono scatenate Di più Ci sono state Delle reazioni Avverse Al vaccino Ma non avverse Nel senso Reazioni Contro Gli ecipienti Del vaccino O il vaccino stesso Ma in alcuni Pazienti allergici C'è stata Una slatentizzazione Per esempio Di sintomi cutanei Che non avevano Più da molto tempo O di manifestazioni Respiratorie Che non avevano Più da molto tempo E questa è una combinazione Purtroppo Tra l'infezione L'infezione Dava le stesse problematiche Noi pensiamo Che quando facciamo Un vaccino Per una malattia Di fatto Imitiamo Una piccola infezione Tale da dare Protezione E non La vera e propria Malattia Conclamata Però è una piccola infezione Quindi Quello che dà il covid Dà anche La possibilità È possibile Averlo anche Con il vaccino Molti dei nostri Pazienti L'hanno fatto Senza nessun problema Altri Hanno avuto Delle problematiche Legate proprio All'infezione Da covid Ma non sono Aumentate le allergie Ne sono aumentate Le crisi d'asma E quindi Nel complesso La vaccinazione Covid Per i nostri Pazienti È stata Di successo Ecco Poi Non vorrei Mettere in difficoltà Professoressa Però Tempo fa Ho letto Di questi test Che utilizzano Le farmacie Si va in una farmacia Fai un test Esce una cosa Vai in un'altra Ne esce Un altro risultato Allora Il grado di attendibilità Di questi test Equivale a zero Che cosa può dire Professoressa Per tutte queste persone Che noi abbiamo Sia Quelle che ci seguono Attraverso la televisione Ma anche poi Attraverso i social E devo dire Sono moltissimi Per fare un po' di chiarezza Ecco Allora guardi Io le dico Quello che dico Ai miei pazienti Che se devono Fare beneficenza Possono scegliere A chi farla Possono scegliere La dita Che vende Queste test Per l'intolleranza Possono scegliere Di mandare Al bambino In Africa In India È una scelta personale E quindi Se devono far beneficenza Ne possono fare Anche le dite Che vendono Questi test Al di là Dell'aspetto provocatorio Questi test Non sono affidabili Non sono scientificamente Attendibili Pongono Ad alto rischio Di malnutrizione Perché il paziente Alla fine Elimina un sacco di cose E non sa perché Devo dire Che rappresentano Molta parte Del nostro lavoro Ultimamente Io capisco il paziente Perché il paziente Ha dei disturbi Che sono Non sono Come dire Riconosciuti Dai medici È frustrato Si sente dare Del nevrotico Perché continua A star male E nessuno Gli crede E l'attesa Per i servizi Allergologici Soprattutto quelli Che gestiscono Queste cose Può essere lunga E quindi Il paziente Cerca di affidarsi Di trovare Tutte le strade Per una possibile Soluzione Quello che io Ritengo Poco corretto È l'offrire Questo tipo Di test Senza far capire Che l'interpretazione Di questi test Non è concreta Espone più a rischi Che a problemi E che forse Vale la pena Indirizzare il paziente Ad uno specialista Piuttosto che Fargli spendere soldi Inutilmente Perché questi test Alla fine Sono più costosi Di una visita specialistica Molto più costosi Si può guarire Dalle allergie Sì Dalle allergie alimentari Si guarisce Quindi si guarisce Sia Il bambino Tende più facilmente A guarire Rispetto all'adulto Quindi i bambini Sono una popolazione Molto Dire Molto privilegiata Perché Una quota Dei bambini Che arriva 70 80% Di allergici Allergici All latte In genere All'età scolare Ha superato Spontaneamente L'allergia All latte Lo stesso vale Per gli allergici All'uovo E diventa Più difficile Per l'arachide Le nocciole La frutta a guscio In generale Ed è il motivo Per cui Il primo prodotto Per l'immunoterapia La desensibilizzazione All'arachide È stato sviluppato Per l'arachide Perché È più difficile Ottenere la guarigione Spontaneamente Detto questo Ci sono dei pazienti Che circa Sono un terzo Dei pazienti Allergici All latte O all'uovo Che hanno reazioni Molto gravi Che compromettono La loro qualità Di vita Perché costringono La famiglia A chiudersi In casa È una vita Di estrema difficoltà Perché lei deve pensare Che fare la spesa Per un allergico alimentare Comporta Tre volte Il tento Necessario Per fare la spesa Normalmente Perché tutti i prodotti Devono essere scandagliati Anche quelli Anche quelli Noti Perché improvvisamente La ditta Cambia la confezione E il paziente Inavvertitamente Prende la stessa confezione Perché la riconosce Come pacchetto E poi alla fine Si accorge Che hanno cambiato Gli ingredienti Quindi È uno stress Continuo Lo stesso vale Per andare al ristorante Allora cosa fa il paziente Si fossilizza Su 4-5 prodotti Non va più al ristorante Se va a mangiare Dagli amici Si porta da mangiare Se va a mangiare Con i compagni Deve portarsi qualcosa Oppure dare talmente Tante avvertenze Che alla fine È frustrante E quindi È una vita Complicata Per questi pazienti Che hanno meno possibilità Di superare Spontaneamente L'allergia Esistono questi protocolli Di immunoterapia Appunto Di desensibilizzazione Per il latte L'uovo Il grano È stata molto chiara Mi chiedono Anche poi Ecco L'intolleranza Al lattoso Perché riguarda Buona parte Della popolazione Mondiale Come mai Allora In realtà È sovrastimata Ecco In realtà È sovrastimata La Intolleranza Al lattosio Si sviluppa Chiamiamola così Da bambini No Il latte vaccino Può dare Due tipi di problematiche Anzi tre L'allergia Verra e propria Scatenata Dalle proteine Del latte vaccino E questa allergia Può avere Test positivi Cioè Si trovano Gli anticorpi IGE Specifici Siamo tutti contenti Finalmente Ce l'ha Invece Quelli che Non hanno Gli anticorpi IGE Specifici Devono fare Un percorso Diagnostico Particolare E hanno L'allergia Non IGE Mediata Bene Questi sono Gli allergici E in entrambi Le situazioni In causa Sono le proteine Del latte Nell'intolleranza Al lattosio C'è una carenza Di un enzima Che si chiama Lattasi Questa Enzima È sull'orletto A spazzola Delle Dili Della mucosa Intestinale E ha Un È massimo Durante la fase Neonatale E poi c'è Un decadimento Spontaneo Man mano Che il bambino Diventa grande E Da adulto Beve meno latte Quindi È un Percorso Progressivo Questo è normale In tutte le popolazioni Occidentali La problematica È che In alcune situazioni C'è un'intolleranza Al lattosio Che noi definiamo Primaria Che è genetica Ed è molto rara In altre situazioni L'intolleranza Al lattosio Può essere Secondaria Secondaria a cosa? A una gastroenterite Per esempio Che distrugge L'orletto A spazzola E quindi Compromette La funzionalità E la presenza Della lattasi O ad un'infiammazione Non intestinale Per esempio Nelle malattie Infiammatorie Croniche Nella celiachia Quindi Quando si presenta Un paziente Con dei sintomi Caratteristici Di una Possibile reazione Al latte Come parlavo Prima Per il glutine Noi abbiamo Tre opzioni L'intolleranza L'intolleranza Al lattosio Allo zucchero Del latte Perché L'enzima Lattasi Distrugge Cioè Scusate Digerisce Metabolizza Lo zucchero Del latte Lattosio Oppure Una reazione Immunitaria Con anticorpi GE O senza Anticorpi GE Verso Le proteine Del latte I sintomi Possono essere Simili Cioè Il paziente Può avere Mal di pancia Scariche Rallentamento Della crescita Perché in alcuni Bambini Non vogliono Prendere il latte Che è la principale Fonte calorica Perché hanno Mal di pancia Quindi tendono Ad evitare L'alimento Quindi si tratta Di capire Esattamente A quale Di queste tre Componenti Il paziente Appartiene Ecco Poi Altra domanda Allora Katia Ci dice Allora Le mie reazioni Allergiche Mi si gonfia La parte Che è andata A contatto Con l'alimento Quindi Labbra E lingua Sento Prurito E a volte Bruciore interno L'allergologo Mi ha detto Che dato Che è impossibile Testare Tutti gli alimenti Devo essere Io Cercare di capire Se una cosa Mi dà Reazione Allergica È veramente Così Professoressa Gli ha detto Bene L'allergologo Allora L'allergologo Ha detto Bene Per un senso Che in genere Noi facciamo fare Per riuscire Allora Non è possibile Testare Tutti gli alimenti E spesso Il paziente Fa fatica A interpretare I sintomi E a stabilire Un nesso Causale Tra un alimento E la reazione E ha l'impressione Di essere allergico A tutto Ed è lì La competenza Dell'allergologo Noi a volte Facciamo fare Un diario alimentare Dove il paziente Registra Tutto quello Prima di fare Una dieta Tutto quello Che mangia E poi Stabilisce Alla fine E scrive Alla fine I sintomi E l'allergologo Valutando Questo Diario alimentare Dovrebbe essere In grado Di capire Di trovare Un filo Conduttore Che porta All'esecuzione Degli accertamenti Diagnostici Mirati Perché anche qui Fare un esame Per 300 allergeni Non ha nessun significato Bisogna L'allergia alimentare È ancora Una malattia Dove È molto importante Un Un hardware Che è La competenza Clinica Del medico Quindi Non c'è Un esame In cui L'esame positivo L'esame negativo E abbiamo fatto diagnosi Non è così La diagnosi Viene Dalla combinazione Di diversi tasselli Che comprendono Anche Gli esami Le prove allergiche Il diario alimentare La dieta Di eliminazione In maniera Da arrivare A quella Che è La diagnosi Corretta E arrivare All'esclusione Dell'alimento Corretto Professore C'è un'altra cosa Che ho letto Allora Sono noti Più di 160 alimenti Che possono causare Reazioni allergiche Con tassi di prevalenza Che variano a seconda Dell'alimento specifico E della popolazione Interessata I dati Più recenti Mostrano Un aumento Fino a 7 volte Dei ricoveri Ospedalieri Per reazioni allergiche Gravi Agli alimenti Nei bambini Del Regno Unito Stati Uniti Italia E in Austria Negli ultimi 10 anni È interessante Questo dato È interessante Perché C'è un aumento Di Non c'è un aumento Non sappiamo Esattamente Quanto sia L'aumento Vero Dell'allergia alimentare Perché C'è una scassità Di dati Epidemiologici Sappiamo Allora Si è cercato Di avere Qualche dato in più Andando a vedere I ricoveri E si è visto Che soprattutto Nell'età pediatrica C'è un aumento Delle reazioni Gravi Con conseguente Accesso Ai pronto Soccorsi E quindi Sì Nell'età Da 0-14 anni C'è stato Un aumento In oltre 10 anni Di 7 volte L'accesso Agli ospedali Per ricoveri Da reazioni Allergiche Alimentari Sarebbe Importante Avere anche Dati specifici Italiani Ma si sta Lavorando Proprio Negli ultimi Settimane Ad un progetto Con l'Istituto Superiore di Sanità Per riuscire Ad avere Dei dati Proprio Solidi E congruenti Anche per l'Italia Perché questo Ha delle Ripercussioni Di salute pubblica Cioè Diamo la priorità Ad interventi Su alcuni Alimenti Piuttosto Che su altri C'è un aumento I paesi Più interessati Sono quelli In cui c'è L'aumento Della frutta Guscio Quindi paesi Anglosassoni Sostanzialmente Perché la usano Molto più di noi E quindi i bambini Sono più esposti E Nel Ma sia Nel Regno Unito Sia In Italia L'allergene Più in causa Nelle reazioni Gravi Gravissime E il latte Facino Sempre lui Insomma Questo latte Ecco Altra domanda Dice La signora Ha un bambino Di 6 anni Che da qualche periodo Dice di avere Forte prurito Alla gola Ha mangiato Per esempio Una carota E subito dopo La situazione Degenerata Prurito Ha aumentato Bruciore E fa fatica A respirare Il mio pediatra Mi ha consigliato Di fare una terapia Con antistaminico Per una decina Di giorni Ma forse È il caso Di fargli fare Le prove allergiche Cosa ne pensa? Magari sì La pediatra Vuole Probabilmente Testare Se si tratta Di una forma Allergica Perché Ne ha tutte Le caratteristiche Allora L'utilizzo Dell'antistaminico Rappresenta Quello che In medicina Si chiama Ex Juantibus Cioè Si utilizza La terapia Se risponde Alla terapia Si dice Sì È proprio Quello Il mio sospetto Quindi Si deve Sospendere L'antistaminico E si avvia Il paziente Alle prove allergiche Ecco Poi dice Carla I miei disturbi Di colite Sonolenza Stanchezza Infiammazioni Di turbinati Possono essere causati Dalle intolleranze Possono essere causate Allora Le intolleranze Di per sé Sono Deficit Enzimatici Parlavo prima Dell'enzima Lattasi Che metabolizza Lattosio Un'altra Intolleranza Da un punto di vista Di classificazione Medica Il favismo Che non c'entra niente Danemia Emolitica Un'altra Intolleranza È L'intossicazione Di cui parlavamo Prima La sindrome Sgombroide O l'avvelenamento Da botulino Quindi Quelle che noi Chiamiamo Intolleranze Sono Per i medici Altre malattie Detto questo La signora Potrebbe avere Un'intolleranza All'attosio E quindi Andrebbe Scrinata Per questo O avere Una malattia Infiammatoria Cronica Intestinale O avere Un'allergia Inalatoria In cui Come dicevo Prima Ci sono Delle molecole Che crociano No No Allora La signora È probabilmente Allergica Alla lipid Transfer Protein Che è Questa proteina All'interno Della frutta Della verdura Che non è Degradata Né dal calore Dalla cottura Degli alimenti Né dalla digestione Gastrica Quindi passa Passa intatta Attraverso Tantissimi alimenti È stato Introdotto In Spagna Un vaccino Con il discorso Che dicevamo Prima Cioè un prodotto Per l'immunoterapia Per l'LTP Che però Ha Un successo Un po' Dubbio Si stanno Studiando Altre possibilità Per consentire A questi pazienti Di ridurre La reattività Nei confronti Della LTP E di riuscire A riprendere La frutta E la verdura Una di queste Possibilità È l'utilizzo Di anticorpi monoclonali Sono cosiddetti Farmaci Biologici Sono anticorpi Che legano Le IGE Famosi anticorpi Dell'allergia E riducono La reattività In maniera Che il paziente Possa assumere L'alimento Senza avere più La reazione Sono in corso Dei protocolli Sperimentali Per valutare Questi aspetti In alcuni Per alcuni Allergeni Quindi ci auguriamo Che anche per i pazienti Con l'LTP Arrivi un futuro Più sereno Ecco Mi chiedono Come arrivare Al suo centro Professoressa Dove devono chiamare Se c'è la procedura Ecco sì Questo Ringrazio Per la domanda Al centro Si arriva Attraverso Il CUP Pediatrico Per quanto riguarda I bambini Attraverso Il CUP Centrale Per quanto riguarda Il servizio Degli adulti Il nostro centro È un centro Trasversale Che vede Che prende in carico Adulti Adolescenti E bambini E bambini Quindi Ha due vantaggi Uno Che può Trattare tutta la famiglia Quando ci sono Più familiari Interessati Due Che il paziente Non cambia più medico Preso in carico Da bambino Continua anche Successivamente A poter essere seguito Presso il nostro centro La disponibilità Dell'adulto È un po' più ridotta Rispetto alle disponibilità Per i bambini Perché i bambini Sono più interessati Da manifestazioni Di allergie alimentari E risentono anche Psicologicamente Di più In un aspetto evolutivo Per gli adulti Abbiamo cercato Di dare La massima disponibilità Compatibilmente Con delle risorse Molto limitate Ecco Mi sento di dire Che a questo punto Veramente Queste risorse Diamole al centro Perché veramente È un centro Di eccellenza Vi lavorano persone Competenti Che studiano Tutti i giorni Su questi Questi possono dire Allergeni Si possono chiamare così Quindi mi raccomando Chi deve sentire Insomma Ascolti veramente Perché c'è la necessità Sempre di dare di più Mi chiedono anche Se possono arrivare Da fuori regione Si può? Ecco Il meccanismo Io se mi posso permettere Senta subire le ire Del mio direttore generale Aiuto È un po' perverso Oddio Il direttore generale Non c'entra niente Perché è una disposizione regionale Allora Per disposizione regionale Al centro Accedono Prima i cittadini Di Padova Poi i cittadini Del Veneto Poi i cittadini Di fuori regione Quindi Vanno Si accede Con pazienza Perché vanno in coda Alle prenotazioni Della regione Di cosa bisogno Professoressa Adesso Per il suo centro Che cosa Di una impegnativa Per una visita allergologica Si chiama Prima visita allergologica Pediatrica Se è un bambino Prima visita allergologica Senza pediatrica Se è un adulto E la tessera sanitaria A disposizione Quando si fa la prenotazione Ecco Stiamo arrivando Quasi alla fine Professoressa Della puntata Allora Che cosa vogliamo dire A che punto Adesso è la ricerca Lei studia tantissimo Ci sono tante pubblicazioni Ecco Che cosa si sente Ti dire Ai suoi pazienti A tutti coloro Che questa sera Hanno sentito parlare Di allergia Di intolleranze E c'è un mondo Perché tantissime persone Sono intolleranti E allergiche Queste patologie Sono trattabili Si possono gestire E vivere Con serenità E sicurezza Si possono Lavorando insieme Cioè Esistono diritti E doveri Del malato Diritti E doveri Dei medici Ma solo Lavorando insieme Tra pazienti E medici Non riusciamo A sviluppare Quel percorso Che è individualizzato Per ciascuno Dei pazienti Perché nessuno Di questi pazienti È uguale all'altro La patologia Può essere la stessa Ma le caratteristiche Di quel paziente Possono essere diverse Per cui La gestione Viene Deve Essere Individualizzata Si stanno Sperimentando Moltissimi Farmaci Perché proprio L'allergia alimentare In questo momento È La nuova frontiera Dell'allergologia E quindi C'è Un'estrema Vivacità Nella ricerca Sia Per nuovi farmaci Per ridurre La reattività Sia Nell'utilizzo Di Possibilità Di modifica Degli alimenti Con la creazione Di alimenti Poliogenici Sia Con tutti Questi Protocolli Di Desensibilizzazione E lo studio Di nuovi prodotti Per l'immunoterapia Quindi Se si tratta Di un bambino Direi Che il futuro È più roseo Ma se si tratta Di un adulto Di non disperare Perché noi stiamo Desensibilizzando Adulti Anche molto gravi Con buon successo E questi pazienti Stanno ritornando A vivere Regolarmente Grazie professoressa Volevo anche ricordare Che la nostra professoressa È stata la prima donna Alla presidenza Della società europea Di allergologia E immunologia Clinica Quindi professoressa Veramente Siamo grati Per tutto questo lavoro È sempre In prima linea Allora Salutiamo il nostro pubblico Ricordando che domani C'è sempre la trasmissione Della politica Il tarlo Condotta dal nostro Alberto Salmaso Vi ricordo invece Venerdì Casa Caffè Condotta da Claudio Casorati Il lunedì Il caffè sport Con Simone Francescon Naturalmente Tutti i nostri redazionali I nostri TG Detto questo Appuntamento rinnovato Alla prossima settimana Sempre con la nostra Trasmissione Stami bene Un ringraziamento Anche alla nostra regia Non cambiate canale State con noi E mi raccomando Statemi bene Alla prossima Un cordiale saluto A tutti voi Buona serata Grazie a tutti i nostri redazionali Grazie a tutti i nostri redazionali Grazie a tutti i nostri redazionali